amici ma soprattutto nemici piangoneri buongiorno 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 mi fa piacere le parole che ha detto spalletti le ho anticipate io ieri nel mio video le ho anticipate io e il mister sembra tra virgolette avermi ascoltato non facciamo prenderci dall entusiasmo non alziamo le mani dal volante perché ancora le curve sono tantissime io questo ve l'ho detto ieri posto partita 30 secondi al fischio della al triplice fischio questo ve l'ho detto io perché è tutto la perché è tutto la mente comanda le gambe ragazzi la mente comanda le gambe e se la mente è non è concentrata al cento per cento può capitare che certi passaggi non vengono fatti in maniera perfetta che certi allunghi non vengono eseguiti in maniera corretta lo scarico mentale e peggio del dolore fisico e spalletti ieri mi ha dato ragione mi ha dato ragione ci sono il mio video che conferma quello che ha detto poi in conferenza stampa qualcuno dice ma ragazzo è giocato come giocare come sempre gli allegriani escono fuori come 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 i mille piedi dopo la pioggia sempre a difesa di sal difesa del padrone ma sari può giocare una di una partita un pochino meno aggressiva una volta ogni tanto non ne fa non ne fa una cultura è normale che la lascia debba giocare leggermente più a corta visto è considerato la potenza del napoli di questo napoli visto lo squilibrio che c'è tra le due formazioni è normale che poi sempre palla napoli la lascia sempre quando usciva palla al piede usciva sempre con un tocco due tocchi cose che la juve non studia legger non fa mai non fa mai quindi cercate di non essere i veramente ridicoli con queste affermazioni del caccio viene la c'è fatto una partita perfetta perché è un allenatore che si sa magari adattare a un tipo di avversario mai la cultura della lascia della cultura di sarri non è quella di arroccarsi 90 minuti chiunque esso sia l'avversario chiunque esso sia l'avversario non è così non è così io sono sempre convinto che questo scudetto lo possa perdere soltanto il napoli oggi come oggi però se la juventus avesse avuto un allenatore degno di nota magari un allenatore che mi portava a casa sei punti contro il monza magari un allenatore che mi portava sei punti contro il monza non sto dicendo real madrid non sto dicendo barcelona non sto dicendo maia armonica sto dicendo monza monza torino sei punti mettiamo che oggi domani vinciamo con la con con la roma mettiamo questo erano 15 meno sei eravamo la potevamo anche ancora giocaccelo non lo dite allegriani questo non lo dite non lo dite comunque ho avuto piacere veramente e ho avuto conferma nelle parole di spalletti nella sua conferenza stama bravo david bravo david bravo david bravo david bravo david ogni tanto me lo dico io solo io si sono ingazzati fino alla fine forza io